Gli occhi erano 280, gli occhi erano 292, quindi gli occhi hanno. Su Twitter il coordinatore del Parlamento europeo sulla Brexit, Guy Ferofstadt, ha intanto commentato La Camera dei Comuni ha ancora una volta votato contro tutte le opzioni, una hard Brexit diventa ormai quasi inevitabile. Lo scenario del no deal non è mai stato il nostro desiderio intento, ma l'UE a 27 è ormai preparata, diventa giorno dopo giorno sempre più probabile, ha commentato il capo negoziatore dell'UE sulla Brexit, Michel Barnier, sottolineando che l'Europa è pronta ad accettare la permanenza della Gran Bretagna nell'unione doganale dell'UE o una relazione simile a quella che l'UE ha con la Norvegia. Secondo Barnier, Londra ora ha tre scelte prima della data di uscita del 12 aprile. Potrebbe ancora accettare l'accordo già negoziato, uscire senza un accordo o chiedere una proroga più lunga per la Brexit che consenta l'organizzazione delle elezioni per il Parlamento europeo in Gran Bretagna a maggio.